La squadra sta facendo un buon percorso, è chiaro che adesso ogni partita sarà sempre più pubblicata, sempre più difficile e quindi noi dobbiamo avere la capacità di aggiungere sempre qualcosa in più. Giochiamo contro una squadra forte che ha 38 punti, che è domenica 24 a 1 e quindi dobbiamo fare una prestazione di alto livello per cercare di fare risultato e nelle nostre possibilità a farlo dobbiamo cercare di metterci tutto il possibile per riuscire a fare il risultato. Hanno una rosa molto competitiva, omogenea, perché oltre ai giovani comunque sono rimasti dei giocatori di alto livello. Mi riferisco per esempio anche a Bozzegoli, mi riferisco a Gonzales, che fanno parte addirittura del Nomara che fece la scalata per andare in Serie A. Quindi la rosa è molto competitiva ovviamente, a questi si aggiungono dei giovani di qualità e quindi è per questo che correrà, come ho detto prima, a fare una prestazione di alto livello. Nell'arco di campionato ci sono sempre delle gare dove devi essere bravo ad adattarti, magari una domenica non sei abituato, trovi il campo sintetico, quindi queste sono tutte dinamiche che le squadre brave, più brave sono, più sono quelle che riescono ad adattarsi alla situazione del momento e cercare di portare a casa il massimo di quello che si può fare in quel dato momento lì.